Il signorino si crede un essere superiore, vero? Come il tipo che per primo camminò sulla terraferma. Ehi, dove sei andato? Ho fatto un po' di jogging. Cos'è il jogging? Un ottimo modo per stare in forma, ecco cos'è. È come nuotare. No, no, niente a che fare con il nuoto.